Secondo turno infrasettimanale della stagione, la Pianese prova a rialzarsi dalla caduta di Montemurlo e la Alianese prova a mantenere vivo il verde speranza che contraddistingue la propria maglia. Amici sportivi di Teleidea, buonasera da Pietro Fanti e da Moriano Michele alla regia e benvenuti a Pianese-Alianese. Poi perde palla successivamente, ora Catanese fuori dall'area di rigore, ci prova con il sinistro, altissima. Ma insomma già buona nazione per la Pianese quando sono passati 2 minuti e 50 secondi. Numero un po' casuale di Marzierli che poi la butta nel mezzo con il sinistro, un cross bellissimo per la testa di Rosati. Buona occasione per l'Aglianese per passare in vantaggio, tiro troppo lento però con la zucca proprio del numero 10 Rosati. Saremo comunque sui 20 gradi, sovrapposizione qui e poi il tiro di Vito con il volo di Wroblewski che manca poco concede a Marzierli l'opportunità di segnare Fedi per Marzierli. Bello lo stop, poi Marzierli di destro parata di Wroblewski e subito dopo corto passi, manda il pallone fuori. Ma che giocata di Marzierli! Al fine non riesce a fare lo stesso su Catanese, può partire il contropiede proprio per la squadra di casa. A destra dove c'è Giustarini fuori! Incredibile errore pazzesco della Pianese con il destro di Giustarini che termina di un soffio al lato. Più Giustarini che come vedete fa l'attaccante e di conseguenza rimane comunque dalle parti dell'area di rigore. Parte Bianchi sul secondo palo di testa Bernardini e poi sbaglia tutto. Ancora una volta buongiorno ma c'era sempre la posizione irregolare. Eccolo qua, Benedetti nel mezzo, salta di testa proprio Giustarini che è il più basso di tutti e manca poco. Va anche a segnare. Giustarini la tocca su Benedetti che è solo su quella fascia, ovviamente sale sulla porta sul sinistro nel mezzo. Ci pensa Catanese, stop e poi calcia fuori, incredibile veramente di un niente la conclusione di Catanese. Di Vito poi resiste a Simeoni, resiste a Bernardini, sempre di Vito, mamma mia! Che azione! Quella del numero 8 che ha cercato l'Euro goal. Ma può partire il contropiede della Pianese col palone che rimane in campo e è velocissimo. Benedetti sta per entrare in area, sempre lui Benedetti di sinistro! Giacomo Benedetti è il nigno di Pian Castagnaio. Pianese 1, Aglianese 0, al tredicesimo del secondo tempo. Benedetti. E scarta 1, la dà poi a Buongiorno che se la porta sul sinistro, fa sportellate, cade in terra. E c'è il calcio di rigore per la Pianese, che sembra nitido, perlomeno da qui non si lamenta praticamente nemmeno la difesa dell'Aglianese. Va lì a parlare con l'arbitro, ma la decisione ormai è stata presa. Parte Buongiorno, spiazzato! 2 a 0 Pianese, in veramente poco tempo, in tre minuti, si è risvegliata la formazione di Masi. Questa volta sul tabellino dei marcatori c'è andato Daniele, Mike, buongiorno. Bianchi prende la rincorsa, la butta nel mezzo, salta Bernardini! E c'è un intervento assurdo di Bala che salva il risultato, almeno salva il 3 a 0, diciamo così. È già ripartita però la formazione azzurra con Catanese che alza la testa di testa, Buongiorno! E ancora una volta, pazzesco l'intervento di Bala! Bianchi resiste al sandwich di due giocatori. È partito poi Giustarini, fermate Giustarini! Sinistro, addosso a Bala, grande occasione anche questa però. Molto bene la Pianese. Poi percussione centrale, Giustarini di prima, alta. Filtrante verso Giustarini, attenzione a tu per tu con Tognarelli, sempre Giustarini. Si apporta sul destro, Giustarini! Ha segnato anche la zanzara, Manuele Giustarini, 3 a 0, al venticinquesimo del secondo tempo. Baglia ancora una volta il giocatore sostanzialmente con più esperienza oggi in campo. Poi Catanese calcia con il sinistro! Parata di Bala. Quattro minuti, quindi si giocherà fino al quarantanovesimo. Acatullo aggira proprio Zuccarelli. Ci prova! È un gol bellissimo! È un gol bellissimo quello di Acatullo! Il primo stagionale per Marco Catullo. E c'è poco da fare, anche i supporter dell'Aglianese si alzano e applaudono. La bomba del numero 19 che porta il risultato sul 4 a 0. Poi Di Leo, scivolata di Di Vito, resiste Di Leo e passa anche il numero 2, Barellini. Entra in area di rigore, si prova con un destra giro, alto sopra la traversa. E l'arbitro effettua in questo momento il triplice fischio. Grandi applausi per questa uscita casalinga della Pianese che termina con il risultato di 4 a 0 per i bianconeri che oggi, va bene, erano in tenuta azzurra. Mister Masi, la Pianese vince 4 a 0 sull'Aglianese in un match, diciamo dai due volti. Il primo tempo è partita sostanzialmente equilibrata, il secondo invece non c'è stata storia. Ebbè, se pensiamo che ammazziamo tutte le squadre, se si sta sbagliando tutto. Stiamo pensando una cosa sbagliata, perché a volte lo sento i discorsi che noi siamo qui, noi siamo là, ma le partite sono difficili. Diventano facili a volte dopo che le giocate. Poi noi avevamo anche un po' di scorie di domenica, perché siamo rimasti delusi, perché abbiamo fatto per 60 minuti una buona prova, però siamo venuti a casa sconfitti. E quindi ci ha lasciato un po' di amaro in bocca. Loro ci hanno poi creato difficoltà, perché ci hanno marcato i nostri due giocatori importanti a uomo. Erano aggressivi, non ci concedevano tempo di giocata. Noi ci siamo lì un po' nervositi. Poi al secondo tempo invece abbiamo rimesso palla a terra, abbiamo fatto quello che i ragazzi sanno fare. E quindi nel momento che hanno fatto quello che sanno fare, la partita è venuta fuori come volevamo. Allora per l'appunto, ricollegandoci a quello che ho detto prima, che cosa le ha detto lei nell'intervallo ai suoi giocatori per farli fare appunto questo secondo tempo? Che non era la strada giusta per vincere la partita, che bisognava fare le cose per cui lavoriamo. Quindi bisognava avere la forza, anche se eravamo pressati, di mettere la palla a terra e cominciare a palleggiare un po' di più. Perché se la mettiamo sui lanci noi siamo approssimativi. Poi possiamo vincere uguale, perché l'occasione l'abbiamo avuta anche buttando palla là oggi, il primo tempo. No, però non è quello che siamo abituati a fare. E poi gli ho chiesto di stare un po' più tranquilli, nessuno ci sta... Non siamo obbligati a vincere il campionato, noi non siamo... Ah no, non è che non siamo obbligati, non siamo quelli che devono vincere il campionato. Noi dobbiamo solo far bene per noi, basta. Punto. Una domanda sulla formazione. Perché Giustarini titolare e Lorenzo Benedetti invece in panchina? Perché l'ho visto un attimo accigliato, diciamo, durante il riscaldamento. Comunque hanno giocato tutti e due benissimo, perché si è visto che anche quando è entrato Benedetti ha fatto il suo... Non mi è sembrato accigliato, Giustarini è un titolare, un ragazzo che è dall'anno scorso, almeno con me, che lavora a 100 all'ora tutti i giorni, non vedo perché lui non deve avere il suo spazio. È come altri, ci sono dei ragazzi che stanno crescendo, i Di Leo, i Ravanelli, che stanno crescendo e troveranno il loro spazio. Perché se si pensa di dover far campionato con 11 persone, davvero dura, giocando ogni tre giorni poi, diventa... Invece più, abbiamo più frecce, abbiamo a disposizione il nostro arco e più possiamo far bene. Difatti alla fine, anche se il risultato ormai era maturato, ha fatto diversi cambi, togliendo appunto chi ha giocato di più come Bianchi, come Catanese. Sì, ma a me sono piaciuti come sono entrati, perché Di Leo, Ravanelli, Catullo sono entrati con la voglia di fare. Questo per noi è importante, se no, se pensiamo che debbano giocare sempre con gli altri, Giustarini è uno che lavora... A volte mi dispiace anche un farlo giocare perché lavora in una maniera incredibile, un ragazzo serio, un ragazzo di spogliatoia, non vedo perché non debba avere i suoi spazi. Di Lorenzo giochiamo ogni tre giorni, gli attaccanti bisognerà anche un po' gestirli, perché oltretutto sono attaccanti di movimento, che hanno un dispendio energetico importante, quindi bisognerà anche dargli la possibilità un attimo di rifiatare. Lorenzo è il nostro capocannoniere, sta facendo bene, però Giustarini è un giocatore importante per noi, quindi non vedo niente di strano.